Ciao ragazzi, eccoci qua siamo tornati, oggi super sfida, c'è una sfida con dei colleghi, degli amici GKickers, Angelo e Alessio Ciao ragazzi Allora, facciamo una sfida inedita, voi siete molto più forti di me nei tiri perché Mette già le mani avanti Ovviamente vi lascio il link in descrizione del loro canale, TikTok, YouTube, Instagram, tutto Sono abbastanza magistrali a tirare e a parare, quindi Le aspettative però No no però è vero, però è vero, ultimamente a farlo youtuber sono migliorato anch'io Ma oggi ci sfidiamo io e Ange Però c'è anche un amico, anzi due amici Lá in fondo c'è la Sparapalloni con Ragnar l'intrattenitore Non devi dire un c***o, devi stare zitto Devi venire qua dopo Devi venire qua dopo Inizia già a mettere pressione Vabbè Ragnar e Andrea V-Maker, andiamo là intanto Andrea, osteopata, V-Maker, manager, management, sponsor, driver Ho un uomo flexatore Siamo qua? Signori, ho portato un amico Oggi in veste di professionisti della Sparapalloni Le sfide comprenderanno sempre il nostro amico qua sotto, sembra un tagliaerba Faremo tiri da fuori da lunetta con passaggi che verranno effettuati Stop e tiro, due tocchi, due tocchi, se ne fai tre sei eliminato Cinque tiri a testa A una velocità decidete voi questo Poi faremo cross Quindi tiri al volo il cross da più o meno qua E poi cross da lontano Cioè tipo, sai le punizioni che devi mettere in mezzo Così la palla arriva a giro e tu la devi prendere di prima Ci sfideremo in tre sfide Cinque tiri a testa Sempre col tagliaerba qua Ma signori, la cosa più importante È che se Pato dovesse vincere Vincerebbe la macchina Ma se Pato dovesse perdere metteremo la testa E vincerebbe la macchina Così Il corpo naturalmente Quella sarebbe la testa Signori Vai chi perde si mette così Tutti quanti in questo momento vorrebbero vedere Pato a perdere Chi perde si mette così Aumenteremo la velocità Sono cinque Facciamo cinque velocità Sempre un po' di più per aumentare un po' di più Ok vai iniziamo Poi di continuare con il video infatti volevo parlarvi di una cosa FC Maglia Ragazzi FC Maglia mi ha mandato queste stupende magliette Ad esempio questa del Giappone Quella dell'Argentina E altre, tante altre magliette Sono bellissime Guardate qua anche il logo come è fatto bene È ricamato bene Benissimo Anche dietro il logo del Giappone È stupenda ragazzi Non solo questa Ma anche questa qua dell'Argentina Anche questa ragazzi Spettacolare È ricamata benissimo Con il logo anche dell'Adidas Dell'Argentina Dell'Albi Celeste Vi ricordo ragazzi che potete trovarli sul sito FC Maglia E inoltre potete usare il mio sconto Pata che vi lascio sempre qua nel primo commento Ma ora continuiamo con il 40% Ange Stop e tiro Madonna Madonna Bravo Sei sempre vicino con la testa del truccoso Grande Con la testa no Vai Sei pronto? Stop Guarda là che stop Oh Guarda Sì Ange come viene Bravo Ale Bravo Subito Per farmi perdere 50% Pata Vai Ballo La macchina non ripete No 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 Fuori fuori Ange Ange Prossimo Vai Guarda là Guarda là No 60% 100% Vai Stop Maggino Bravo 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 Dura Sali 70% 70% 70% Bravo Va bene Va bene Eddio è una mina incredibile Ricordiamo un attimo il ruolo di Angelo per favore Difessore centrale Difessore centrale Oddio Peccato Caricare Bravo No Io se l'avevo fatto così non ho scoperto Ma stavite Vai Contazioni Caricare No Peccato Angelo Are you ready? No Oh Caricare Con le palle Un po' Caricare Bravo per aver sognato Vabbè però era buona Stop Ciao Seyyy 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 3 2 Fuoco Vai Angelo Oh Ho sentito la macchina eh L'hai preso? L'hai preso? L'hai preso? Ha preso il scivolo là sopra La raga scusate Fuoco 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 bella, va bene, non era male questa eh, molto dura da prendere questa eh un secondo, paralidi sul lato destro, caviglia che non si capisce perché è lesionata però scrive not human su instagram, e signori si presenta qua Miranciuk, vai Miranciuk, credete nei miracoli, chiede solo a chi ci crede ma di figlio ho preso, dalla febbre figlio, pronti, fuoco, sembrava la mia, la replica ha fatto ho fatto la replica di prima, dai dai, dai, si, lo sapevo che parava cazzo, bravo, 1 a 1 questo casino, bisogna essere le ali, e andiamo, ragazzi ora cross tipo punizione esterna, di prima o spizzato, rovesciata, 50%, va bene, gialla, l'idea non era male, primo tiro un po' azzardato bravo, di polpaccio, aumentiamo, 60%, sono carichissimo mi alleno per l'anno prossimo, testa si, 70%, vai vai, no, si, mi tieni in gioco, mi tieni in gioco, no, non ci posso creer che e andiamo, vai, 80%, che la faccio così, la faccio, 80%, lo stromo, giù, no, è giusto dai, gli sta graziando è un tonno sembrava, un po' di pazza dai, che ti fa male,enson vai,ange eh, questa te la sei sprecato non ho paura 100 fuoco 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 Potrebbe pareggiarla. Eleganza. È come me. Vai tanto ancora. La guada è fatta. Ma se io faccio sta roba che fa fatta, mi spezzo il colo di più. Bella. Di alluce. Di alluce. Di alluce. Ragazzi, meglio di così. No. Traversa. Non è così. Ora vado di testa. Mamma mia. Finiscila così. Sì. Guarda, guarda, guarda. Sì. Giusto, va qui. Sì. Raghi, non ti sento. Giusto, va qui. Grazie, grazie. No, nessuno perde, ragazzi. Allora, raga. Sparapalloni, totale, bellissimo. Difficile. Difficilissimo. Ho perso questa sfida, quindi ora dovrò fare una roba che ho detto prima. Adesso venite a vedere cosa devo fare. Signori, ci abbiamo il clean sheet. Ma che cazzo è quella roba? Dai, dai, dai. Comenta sta m***a. Dai, su. Menta qua. No, così arriva in testa. Ma che in testa? Non ti preoccupare. Fuoco. Allora, per oggi può bastare. I miei glutei sono allenati. Ringrazio i G-Kickers. Grazie, grazie. Grazie, G-Pata. Mi ha fatto un ottimo video, ragazzi. Siziato da Ragnar. Ragnar non è soddisfatto. Sparapalloni, tanta roba. Abbiamo perso, non ci siamo divertiti. Se volete altri video con gli sparapalloni, commentate, ragazzi. Mi raccomando. Come ho detto prima, ragazzi, vabbè, seguite questi bellissimi ragazzi, tipo Ragnar, bellissimo, no, ma seguitelo e loro due che sono bellissimi. Basta il nome. Link in descrizione di tutti i loro canali. Sono dei bravi ragazzi. Aiutateci a crescere perché cresceremo tutti insieme. E allora, vi aspettiamo nel prossimo video. C'è chi ancora aspetta di crescere? No, no, a me va benissimo così. Sto benissimo. Perché io cresco in altro. Contano i piedi poi. Esatto. Allora, ha perso. Ragazzi, il riscatto di pata arriverà. Esatto. Arriverà. Ciao ragazzi, alla prossima.